Se tu ti esponi con un pensiero e racconti con il cuore aperto quello che pensi è più difficile per il fan o per il tifoso anche avvelenato di venire lì e dirti ma vaffanculo Magari anche il tifoso legge e dice anche Melli è un essere umano, no? Come me Sì, sì, sì Invece se tu scrivi Tough Lost, Voluta Sconfitta Sotto è più facile, Tough Lost è un cazzo È vero, verissimo Tu prenditi 20 minuti e scrivi un pensiero perché tu con quel pensiero parli a 500.000 persone Certo, certo Io apprezzo sempre chi prende il tempo per parlare alle persone Certo